Grazie Presidente, mi collego all'intervento della Presidente Iorio, insomma si tratta sicuramente di una delibera innovativa del panorama legato alle convenzioni urbanistiche appunto sottoscritte da Roma Capitale e si tratta di una novità perché il lavoro che è stato fatto nell'arco di questi tre anni di cui mi avviso non può non essere dato atto insomma del lavoro portato avanti dalla Commissione anche ovviamente con la partecipazione anche dell'opposizione nell'esaminare spesso delle convenzioni urbanistiche magari alcune volte datate che continuano a produrre i loro effetti anche oggi seppur magari le delibere di indirizzo e sappiamo tutti i procedimenti di questa materia sulla trasformazione urbana sono procedimenti che durano degli anni, alcune volte cinque anni, dieci anni, quindi questo è qualcosa che bisogna comprendere, quindi alle volte ci sono delle amministrazioni come questa ma anche le altre che si trovano a dover governare dei procedimenti di attuazione di convenzioni urbanistiche e quindi dei contratti sulla base di determinazioni politiche assunte da precedenti amministrazioni ma non è diciamo una retorica, è fisiologicamente così quindi spesso si va a prendere magari delle convenzioni di porzioni di città di convenzioni urbanistiche che i cui indirizzi sono risalenti nel tempo. Quindi a questo punto noi abbiamo sulla base del lavoro fatto e anche tenuto conto della determinazione dell'ANAC, abbiamo pensato quindi che fosse importante dare una svolta sicuramente più forte sul tema della trasparenza, della pubblicazione in questo caso dell'elenco e di tutti i riferimenti delle convenzioni urbanistiche e quindi la proposta di delibera che noi sottoponiamo all'assemblea capitolina abbiamo poi presentato insomma alcuni emendamenti di ordine del giorno che dopo insomma illustreremo anche per rafforzare questi indirizzi però è volta a garantire la pubblicazione integrale dell'elenco delle convenzioni. Quindi fare in modo che Roma Capitale, poi insomma preciseremo meglio anche di che cosa si tratta, Roma Capitale, la cittadinanza, anche i municipi, possa avere un elenco sempre aggiornato delle convenzioni che sono state sottoscritte da Roma Capitale, ovviamente non quel mese ma sottoscritte appunto da tutte quelle vigenti o anche quelle decadute e corredate di tutta una serie di informazioni che possono aiutare la cittadinanza in primis ma anche gli organi municipali, quindi anche gli amministratori municipali, gli amministratori capitolini per capire diciamo immediatamente Ictuocoli quali sono effettivamente le convenzioni che insistono all'interno su un territorio. Perché è importante? Perché spesso e anche qui l'ANAC insomma ci fa capire un po' questa storia che proviene insomma da decenni ovviamente di aspetti che riguardano la città di Roma che è molto estesa di contratti quindi di convenzioni all'interno dei quali sono magari delle opere pubbliche di importanza della comunità cittadina o di un territorio e quindi spesso magari anche i municipi chiedono all'amministrazione, chiedono agli uffici, chiedono alle commissioni capitoline insomma cercano di comprendere per quale motivo quel servizio o quell'opera pubblica magari non è ancora stata completamente realizzata. Ecco quindi bisogna fare un passo in avanti da questo punto di vista e fare in modo che tutto l'elenco delle convenzioni sottoscritte da Roma Capitale in materia di trasformazione urbana possa essere più facilmente accessibile quindi immaginiamo anche accessibile attraverso tutti gli strumenti idonei che riguardano l'accessibilità e il regolamento dell'accesso agli atti da questo punto di vista. Però in questo caso parliamo appunto dell'elenco e gli altri punti quindi che riguardano il deliberato e mi avvio a concludere Presidente occorre appunto prevedere anche che oltre al mero elenco dove abbiamo insomma il numero della convenzione, la localizzazione territoriale e municipale e tutto il resto abbiamo dato degli indirizzi per definire una roadmap che riguarda anche altre informazioni da pubblicare nel corso del tempo. Gli interventi, le opere di organizzazione primarie e secondarie, gli oneri economici a qualunque titolo previsti nelle convenzioni, altri obblighi convenzionali, le garanzie finanziarie, gli organi di controllo, insomma tutta una serie di elementi che devono concorrere ad aiutare la cittadinanza, i municipi, gli amministratori di Roma Capitale a lavorare meglio anche sul controllo e sulla vigilanza dell'attuazione anche perché i numeri Presidente di queste convenzioni sono altissimi rispetto alle altre città, tenuto conto anche dell'importanza dell'estensione territoriale. Insomma è una delibera che garantisce quello che noi abbiamo sempre detto, il fiato sul collo, che garantisce di poter mappare e vigilare meglio su queste convenzioni, quindi che abilita la cittadinanza e l'amministrazione a fare questo tipo di attività. In ultimo, Presidente, la possibilità, e questo è senza l'indicazione precisa, anche di coordinare ovviamente questa attività con quello che è la piattaforma della NIC con tutte queste altre informazioni. Grazie Presidente.